Quando vogliamo promuovere un prodotto abbiamo diverse strategie che possiamo utilizzare una di queste è sicuramente l'influencer marketing ora una piccola parentesi su che cos'è l'influencer marketing si tratta di utilizzare gli influencer per andare a promuovere un nostro prodotto o un nostro servizio quindi spiegato proprio in parole semplici noi ad esempio abbiamo un gadget tecnologico, un nuovo gadget che vogliamo immettere sul mercato vogliamo farlo conoscere, quindi fare un po' di promozione per aumentare le vendite possiamo contattare degli influencer che si occupano appunto di tecnologia eccetera per pubblicizzarlo, quindi gli manderemo il prodotto l'influencer in questione farà magari delle storie dove parlerà del prodotto e inserirà magari in descrizione il link che porterà gli utenti direttamente alla nostra pagina di vendita questo è un esempio, giusto per farvi capire e darvi l'idea subito in concreto oggi a tal proposito voglio presentarvi una piattaforma che si chiama InstaJet che vi permetterà di entrare in contatto con gli influencer del vostro settore quindi potete scegliere addirittura insomma filtrare per categoria, per settore potete quindi mettere anche diversi filtri del pubblico tipo l'età l'età del pubblico che deve avere questo influencer potete scegliere ad esempio di filtrare per influencer italiani oppure canadesi o francesi eccetera eccetera facciamo così, spostiamoci subito al pc e andiamo a vedere direttamente la piattaforma così vi potete rendere conto di come funziona vi ricordo che il link per accedere alla piattaforma lo troverete direttamente in descrizione al video e prima di iniziare se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e lasciate un like al video ok bene eccoci qui su InstaJet la prima cosa da fare è l'iscrizione quindi ci basterà andare su iscriviti qui ci basterà mettere mail e password e creare il nostro account una volta creato l'account possiamo accedere ok ho fatto l'accesso io già ho creato l'account come potete vedere da qui noi possiamo andare ad utilizzare questa piattaforma sia se vogliamo andare a pubblicare un'inserzione quindi stiamo cercando appunto pubblicità per promuovere il nostro prodotto oppure se siamo degli influencer possiamo addirittura aggiungere il nostro account e quindi entrare nella cerchia degli influencer che sono iscritti alla piattaforma per essere poi contattati dalle aziende noi oggi però ci concentreremo sulla parte di pubblicità quindi come andare a trovare dei creator che ci possono andare a promuovere i nostri prodotti andiamo qui su inizia direttamente ok ci comparirà questa pagina con un catalogo qui possiamo vedere tutti quanti i vari influencer che sono iscritti alla piattaforma possiamo andare anche a filtrare ad esempio per categoria se ci interessano degli influencer del settore bellezza quindi magari se abbiamo appunto un negozio di accessori per make up e cose di questo tipo ad esempio possiamo filtrare per bellezza qui troveremo tutti quanti i vari influencer di questo settore come possiamo vedere qui ci sono anche altri settori che possiamo andare a considerare ora qui abbiamo la possibilità anche di filtrare per posizione geografica quindi andando qui possiamo andare a selezionare il paese e anche la lingua e infine il pubblico da qui possiamo mettere ad esempio l'età se ci vogliamo per esempio rivolgere a un pubblico più giovane potremo andare a selezionare 18-24, 25-34 eccetera eccetera e ci andrà a filtrare per gli influencer che hanno questo determinato pubblico di riferimento come possiamo vedere qui appunto abbiamo questa lista di tutti quanti gli influencer che abbiamo a disposizione che quindi possiamo utilizzare per promuovere i nostri prodotti qui c'è il costo per ogni influencer c'è scritto il numero di abbonati con il costo di riferimento per una storia in questo caso poi appunto ci sono degli influencer che hanno delle scontistiche in base al numero di storie che hanno possibilità appunto di acquistare anche più di una storia qui possiamo andare a vedere il target ad esempio questa influencer che viene dal Canada ha un pubblico di riferimento al 62% dai 25 ai 34 anni dai 18 ai 24 invece un 26% eccetera quindi ci possiamo già fare un'idea del pubblico che ha questa influencer volendo possiamo andare a cliccare direttamente sul suo nome qui direttamente per andare a vedere il profilo Instagram e da qui ci possiamo rendere conto anche delle interazioni con i post ci basterà cliccare su un post per vedere magari i vari like al post per vedere i vari commenti eccetera eccetera adesso andiamo a vedere effettivamente come acquistare questa inserzione è semplicissimo quindi se vogliamo ad esempio pubblicare una storia sul suo profilo di questa influencer ci basterà andare ad aggiungere al carrello qui possiamo vedere il costo 66 dollari andiamo ad aggiungere al carrello la storia andiamo qui e possiamo procedere al pagamento quindi qui bisogna andare a ricaricare il nostro saldo quindi andiamo su ricarica saldo carta bancaria ci farà aggiungere i dati della carta di credito per andare ad effettuare il pagamento andando qui su questo menu su offerte di pacchetti abbiamo la possibilità qui su ordine adesso di acquistare direttamente un pacchetto quindi selezionando uno di questi pacchetti potrete andare ad acquistare direttamente dei crediti da inserire all'interno del vostro account qual è la differenza? la differenza di acquistare un pacchetto rispetto a ricaricare solamente il saldo sta nel fatto che avrete un consulente che vi contatterà e vi darà un supporto per seguire la vostra strategia quindi per raggiungere i vostri obiettivi bene siamo giunti al termine se avete qualche commento a riguardo potete lasciarlo qui sotto vi lascio come sempre qui la playlist dell'idea di business qui sopra il pulsante per iscrivervi al canale noi ci vediamo nel prossimo video ciao